Musica 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 ...occolta il motore quindi, ...occolta il comitante, ...occolta il comitante. ...occolta il comitante. Quindi c'è il loro per aqueco di rispettare. Per rispettare sono un recosisto. Il ringo che si trascendamano su rispettare. La ricostanza è che vuole? perché c'è da spettere, can mangi, could you? Could you make a way, please? Sì, ragazzi, l'opposito. Versi vete? C'è un certo verso, come in? Yes, of course. Yes, of course. Aga versi vò, è arrivato bene, sorry, I'm afraid I can and buvore, as nascend, aga versi vò, neri. Thank you, mamco, Sì, ragazzi. Could you tell us the way, please? The way, please? Could you tell us, the way, please? Manudì, e'kizman, aga versi vò, è arrivato bene, mancad vò, è arrivato bene, yes, of course. Yes, of course, hava versi vò, è arrivato, io, d'afozi. Can you open the window, please? Aba, d'afozi, è arrivato, can you understand, please? Can you open the window, please? The shape, and the pages, e'из, Can you open the window, e' salir aah, yes, Of course, yes, over the day, day's garden. The way, the way, is when we need to go, be Granby, no it, yes, then we need to go and go, do not 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 go, Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 . 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 can you tell me the way please can you tell me the way please madame maway hai ma sayi kudua why vincere ji can you tell me how are you going to do the work could you follow me your technique please magutu bhutti kide can you show can you show me the ticket please can you show me your ticket please have a better you bet you can be sa kiaf